Ci sarebbe un terzo complice nel lancio dei sassi dal cavalcavia a seguito del quale i due diciassettenni sono stati bloccati nella notte di sabato scorso dalla polizia. I due giovanissimi avrebbero ammesso le loro responsabilità davanti al GIP del Tribunale dei Minori di Messina. E in ballo sarebbe stata tirata una terza persona che avrebbe partecipato ai lanci di sassi nelle settimane precedenti. Sul cavalcavia del villaggio Grazia di Milazzo, che sporge sull'autostrada a venti, sarebbero stati installati dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero incastrato i due diciassettenni. Dopo la convalida, i due ragazzi sono stati trasferiti presso il carcere minorile. I legali hanno annunciato ricorso al riesame. Chiedono che la misura cautelare possa essere eseguita magari presso una comunità per evitare che possano trovarsi in un contesto problematico, dal momento che provengono da contesti familiari totalmente estranei a circuiti criminali. Lo scorso 11 novembre i lanci di sassi colpirono un'auto con quattro persone a bordo, fortunatamente rimaste illese. In precedenza erano stati colpiti un pullman e un'auto della polizia stradale.